Roberta Galletta si avvicina alla commemorazione dei morti per l'undicesima volta consecutiva. Roberta Galletta regala alla città una passeggiata all'interno del cimitero monumentale. Quest'anno però sarà una visita speciale, anche diversa rispetto a quella degli altri anni. Sì, allora quest'anno facciamo un percorso un po' diverso e grazie all'intuito geniale che ha avuto Maria Letizia Beneduci, che conoscete tutti, la nostra punta dei diamanti della cultura civile vecchiese, che l'altro anno mi ha permesso di vedere attraverso i suoi occhi una profonda e particolarissima simbologia all'interno del cimitero monumentale. Abbiamo fatto ricordare, non so se il pubblico se lo ricorderà, è stato questo bellissimo evento di una visita guidata in forma di preghiera musicata. Insomma è stata una cosa molto molto bella. Quindi quest'anno io ho rimodulato la mia visita guidata che facevo prima dell'incontro artistico con Maria Letizia e diciamo così la propongo ovviamente in forma ridotta, perché ovviamente quest'anno Maria Letizia non c'è, perché lei è lanciatissima a livello nazionale, fa tante cose, quindi sarà vedere il cimitero monumentale con ulteriori occhi diversi rispetto a quello che noi abbiamo visto nelle precedenti visite. Se tornate a parlare, tornando ad attualità, il tema delle stumulazioni, ce ne sono state alcune ultimamente, questo è un altro tema sicuramente da affrontare per la nostra città e per quanto riguarda il cimitero monumentale? Allora lì l'amministrazione comunale è imbrigliata ovviamente, perché c'è un regolamento di polizia mortuaria che è stato fatto nel 1998 mi pare, lì c'è un articolo che va cambiato, perché quell'articolo impone appunto dalla facoltà al sindaco, all'amministrazione pubblica, di estumulare tutti quei loculi comunali per i quali non è stata rinnovata la concessione. È vero che però le lapidi potrebbero essere conservate in appositi luoghi, perché insomma il posto c'è. Quindi insomma io lancio questa piccola soluzione di modificare urgentemente quell'articolo del regolamento di polizia mortuaria, perché se no noi rischiamo di perdere veramente la storia cittadina. Torniamo all'appuntamento in programma domani, appuntamento quindi per i cittadini? Allora l'appuntamento è alle 14.30 e il primo novembre fino alle 16.30. Io segnalo che sarà importante rimanere fino alla fine, perché a un certo punto arriverà all'imbrunire e quindi il cimitero sarà bellissimo con tutte le luci votive che in realtà sono sempre accese, però in quel momento si manifestano. Quindi grazie a chi vorrà intervenire e soprattutto sarà un'occasione per il pubblico di trasformarsi in tanti piccoli dantini, perché io diciamo così come una novella Virgilia, insomma cercherò di guidare, proprio come in un viaggio nell'oltretomba, diciamo così, il pubblico civitavecchese alla scoperta di questo bellissimo libro di pietra.